Non c'è soltanto la TAV tra le opere probabilmente inutili, dannose, dalle quali i giovani non traggono nessun vantaggio. Ci sono anche altre opere che ahimè sono molto discutibili, forse molto inutili, molto dannose all'ambiente e che sono già al centro delle cronache in quanto centri di porcilaie per scambi di tangenti e di soldi sporchi e fortunatamente da questo punto di vista va detto che la magistratura è intervenuta e ha già portato all'arresto di importanti esponenti politici lombardi. Parlo della Brebemi, che è questa striscia di asfalto che dovrebbe teoricamente unire Milano a Brescia, ma che di fatto unirà Castrezzato, Travagliato a Melzo, che sono paesi graziosi della provincia di Brescia da un lato e Melzo è periferia est-est di Milano, quindi a 15 km. Una striscia di 57 km che zigzagherà tra i vari paesi della bassa Bergamasca, dell'ovest bresciano e dell'est milanese e che è stata molto decantata, pompata, voluta dalle varie camere di commercio lombarde, Milano, Brescia e Bergamo, molto pompate con articoloni tipo finalmente dalla stampa locale che adesso hanno avviato i lavori, Berlusconi è un ragodoglio che mise la prima pietra su questo progetto, un progetto che continua ma che però di fatto pare che non sarà così utile perché sotto lì hanno probabilmente nascosto diversi rifiuti tossici che sono dannosi all'ambiente. Però andiamo un po' per ordine perché il tutto parte da una famosa marca di gomme che ancora oggi troviamo in tutti i supermercati e anche in tutte le tabaccherie. Si vince un viaggio tra i leoni con il re dei gran palloni, occhio all'incarto vincente! 20 viaggi safari in Kenya e 10.000 leoni morbidoni Ecco, i leoni morbidoni che sono di fatto molto simili al cinghialone perché così chiamavano in regione Lombardia Franco Nicoli Cristiani, vicepresidente della regione, braccio destro e sinistro di Formigoni, arrestato il 30 di novembre per tangenti, corruzione in quanto un'indagine della procura di Brescia con intercettazioni ambientali e telefoniche è riuscita a risalire e a prendere nella casa del politico 100.000 euro in contanti, una storia che proprio si fonda in parte nella Brebemi e nelle cave estrative che le stanno attorno. Ebbene questo arresto peraltro ha seguito quello di Filippo Penati, come già saprete, altro ex vicepresidente della regione Lombardia del Partito Democratico e che era stato arrestato per un altro filone di inchiesta, ma non collegata a questa, tangenti però per altri affari legati alla sua attività di politico a Sesto San Giovanni quando era presidente della provincia di Milano e poi ancora per l'affare delle azioni della Serravalle. Ebbene quindi quella è un'altra storia. Questa di Nicoli Cristiani invece si lega proprio alla Brebemi e anche alla cava estrattiva di Cappella Cantone in provincia di Cremona che è stata utilizzata e ampliata per togliere ghiaia da mettere nelle massicciate di varie opere stradali tra cui in parte anche la Brebemi e che un certo Locatelli Pierluca di Bergamo col suo clan voleva riempirla di amianto e di rifiuti tossici per cui per poterlo fare aveva bisogno di un'autorizzazione della regione Lombardia per cui avrebbe oliato i politici con soldi affinché potesse ottenere questi permessi. Questo in sintesi è il fulcro della questione. Franco Nicoli Cristiani è questo signore che vedete in questa immagine durante alcune interviste. Quindi è stato preso con 100 mila Euro, qui appare con Davide Boni che è il Presidente del Consiglio regionale e appenati in una vecchia immagine. Questa è la cava estrattiva di Cappella Cantone, una vera cappella che hanno fatto scambiandosi i soldi perché li hanno beccati per riempirla di amianto, peraltro contro il parere del sindaco di questo paesino che ha detto non fate i furbi con me ai funzionari che cercavano di convincerlo. Vicenda di cui si è interessato anche l'assessore Marcello Raimondi, questo è il momento in cui al casello di Cabriate San Gervasio Rotondaro, coordinatore regionale della Lombardia dell'ARPA, parlo dell'Agenzia regionale dell'Ambiente, Rotondaro riceve da Pierluca Locatelli in una confezione di vino i soldi 100 mila Euro che poi Rotondaro quel stesso giorno porterà a Milano, al ristorante da Berti, al politico e Nicoli Cristiani. Questa invece è l'immagine presa dall'alto di uno dei tanti cantieri della Brebemi, questa autostrada sotto la cui massicciata sono finiti dei rifiuti tossici non trattati, quindi violando tutte le normative di legge in diversi punti. Brebemi i cui cantieri sono stati sequestrati dopo questi arresti, quasi tutti i 50 km del tracciato, rimasti sequestrati tutto dicembre, quindi dissequestrati, parte di questi, una trentina di chilometri, dissequestrati a fine anno e dunque i lavoratori hanno potuto riprendere la loro attività dentro questi cantieri. Va notato che peraltro le imprese che ci lavorano sono sostanzialmente imprese subappaltatrici anche di molte famiglie calabresi, visto che avevano promesso che avrebbero lavorato solo bergamaschi, bresciani e milanesi, in realtà va detto che comunque qui di lavoro la Brebemi non ne ha portato, non c'è nessuno che conosca che dica lavoro in Brebemi, o meno male che c'è Brebemi questo cantiere perché così guadagno. Peraltro un'opera che doveva essere finanziata interamente dagli imprenditori, ecco le Camere di Commercio, ecco Francesco Bettoni, Presidente della Camera di Commercio di Brescia e Presidente di Brebemi S.p.A., che di fatto ha voluto quest'opera con Formigoni, con l'allora Ministro Di Pietro, le infrastrutture che si sedette al tavolo con Formigoni per approvare quest'opera che andò all'autorizzazione del Cipe e dunque autorizzò il finanziamento, finanziamento che è arrivato in parte, anzi ne è arrivato molto perché questi imprenditori oggi si sa e si è capito e si è saputo che i soldi non ne hanno messi, si stanno usando fondi di Stato per fare questa autostrada che poi dovrà rendere ai privati col pedaggio, questa è un'altra questione, però l'autostrada interessava Locatelli e i suoi sodali, lo si vince da un bel po' di intercettazioni con i suoi collaboratori, un'inchiesta che ha portato all'arresto di 11 persone, Nicoli Cristiani, Rotondaro dell'Arpa, Pierluca Locatelli che a Bergamo è il più grosso imprenditore che c'è a livello di movimento terra e una serie di suoi collaboratori. Big Bubble è il termine che la moglie di Locatelli, si chiama Orietta Rocca, utilizza per riferirsi ai contanti da 500 Euro in quanto il colore della banconota è uguale a quello della gomma, la Big Bubble, rosa violaceo e sono quelli i pezzi, i contanti che vengono consegnati nelle mani di Rotondaro che poi porta a Nicoli Cristiani. Successivamente in un interrogatorio del 20 febbraio si scoprirà addirittura che questi soldi trovati in casa di Nicoli Cristiani non erano quelli dati da Rotondaro, erano altri perché le matrici non corrispondevano, dunque si presume, anzi si ha ormai la matematica certezza che Nicoli Cristiani abbia preso più soldi e non solo, Rotondaro ha dichiarato che quei 100 mila Euro erano un acconto che poi sarebbe stato completato con altri 100 mila sempre per il politico per poter oliare e poter velocizzare questa pratica per riempire di merda la cava di Cappella Cantone col serio rischio di inquinare le falde acquifere, visto che quella zona è abitata e ci sono le falde acquifere da cui gli acquedotti attingono acqua potabile. La scusa, dicevano i 100 mila Euro non sono una tangente, Rotondaro ha dichiarato che la tangente doveva coprire i costi del tesseramento del PDL in Lombardia, quindi tante scuse per giustificare questa dazione. Ovviamente Nicoli Cristiani si è dovuto dimettere, però nonostante questa figuraccia, arresti domiciliari adesso rilasciato, ha preteso e pretende che ci sia questa pretenda del vitalizio, insomma 3.700 Euro al mese di pensione più 340 mila Euro di buona uscita. Nell'immagine lo vediamo affiancato a Pierluca Locatelli, dunque l'imprenditore interessato agli appalti che paga il politico per ottenere velocemente le autorizzazioni illegali per poter smaltire dei rifiuti tossici violando le leggi, però fregandosi, perché è importante fare l'affare, perché per Locatelli vuol dire ovviamente liberarsi di roba che non ha e magari limitare le spese, per l'altro vuol dire anche guadagnare, questo in sintesi, il rapporto. Non siamo con i Macri, non siamo con gente che si chiama magari Morabito, Locatelli, Locatelli è il cognome più diffuso a Bergamo, Rota, Carrara sono i più diffusi, Locatelli è teoricamente proprio il bergamasco classico, un po' come Brambilla, che però è milanese, però deriva da Bergamo il cognome. Ecco, questo tanto per dirvi che non c'è né nor né sud di fronte a un'usanza e a un metodo, quindi il metodo delle tangenti non si è per niente interrotto e lo sapevamo. Questa è un'immagine, uno dei tanti cantieri di sequestrati della Brebemi, come vedete le campagne vengono praticamente attraversate da questa striscia di terra, non ci sono poteri da parte dei vari organi, come per esempio il Parco Serio, il Parco Adda, il Parco Olio, tutte realtà che hanno delle persone, persone che sono in assemblea, che sono pagate per quel ruolo, per difendere quei rimasugli di natura che la Lombardia ancora offre, Lombardia antropizzata, costruita e fortemente rovinata, inquinata, non aveva bisogno di quest'opera, che è un capriccio massonico delle camere di commercio, degli industriali e della stampa lecchina che ha sostenuto con dei titoloni tipo finalmente, punto esclamativo, partono i lavori, non c'è bisogno di questa cosa, perché da quando c'è la quarta corsia sulla Milano-Bergamo il traffico si è ridotto, da Milano a Bergamo si viaggia tranquillamente, esattamente la Brebemi come la TAV è un progetto di 20-30 anni fa, quando ancora si pensava che gli asini volassero, anche quest'opera risentirà della recessione, risente comunque di un calo generale del scambio delle merci, il traffico anche qui è in continua diminuzione, un po' perché aumenta la benzina, un po' perché il lavoro ce n'è di meno, ci sono intere zone industriali vuote, disoccupati e senza più mezzi che vanno e che vengono, quindi quest'opera è inutile, è un capriccio che serve teoricamente a far soldi, ma che di fatto creerà probabilmente dei mostri tutti attorno, quindi se c'è già poca campagna attorno a questo schifo di autostrada, attorno si faranno cappannoni e case ovviamente per creare finto commercio. Comunque la situazione è che intanto Franco Nicoli Cristiani è stato scarcerato in quanto il giudice ritiene che il filone che loro riguarda sia definitivamente, non dico chiuso, però definito, non ci sono più motivi per ritenere che possa inquinare le prove, ha già ampiamente ammesso quello che doveva ammettere e dunque siamo al punto che adesso il processo dovrà cominciare, la decisione di scarcerarlo è venuta dal Tribunale degli esami di Brescia che ha anche fatto l'istanza di sequestro di questi cantieri, sbloccando punto 28 dei 34 km finiti sotto sequestro. E dunque vi dicevo che dall'ultimo interrogatorio del 20 febbraio di Franco Nicoli Cristiani davanti al PM Fabio Filippini, ha dato ovviamente tutte le dimissioni dalle varie cariche che aveva Nicoli Cristiani e praticamente sono gli altri elementi che adesso fanno pensare per i quali il GIP Elisabetta Mayer ha revocato gli arresti, però Nicoli Cristiani è stato sentito anche in un'altra inchiesta a Milano coordinata dal PM Alfredo Robledo e che riguarda appunto l'ex funzionario dell'ARPA Giuseppe Rotondaro, il Pony Express, teletangenti che ammettendo le proprie responsabilità ha fornito spunti investigativi e anche Locatelli che ha avuto un atteggiamento ampiamente collaborativo e ha messo in liquidazione le società del suo gruppo facendo venire meno il pericolo che ancora possa spendere la propria professionalità se così si può chiamare, per fini illeciti e intanto le cronache locali riprendono Pierluca Locatelli libero e dichiaro all'eco di Bergamo ma non sono un uomo libero, parla ovviamente che dice che insomma è una sorta di gogna, praticamente dice dopo tre mesi sono libero e dice non sono libero, tutt'altro che finita, comunque non parlo, mi avete crocifisso, otto pagine e via quindi si lamentano di essere finito sui giornali Locatelli perché ovviamente non può fare altro che giustificarsi in questo modo, però c'è da dire che quindi la Brebemi capite cosa serve ma che scandali è finita in mezzo, peraltro la società si dichiara parte lesa però ovviamente è finita nell'occhio del ciclone di questi imprenditori interessati senza scrupoli a tutto e i politici corrotti che ovviamente cercano di fare sperando di non essere beccati. Vi dicevo di Formigoni, un presidente illegale a quarto mandato con firme false, coinvolto nelle inchieste della discarica di Cerro Maggiore, nell'inchiesta Oil for Food, adesso toccato in questo modo nella sua giunta che doveva essere una Ferrari, lui il pilota di questa Ferrari, cioè la regione Lombardia a capo di questa giunta, insomma una Ferrari che si è schiantata ormai, si può dire perché a parte Nicoli Cristiani e a parte anche Penati va detto che anche Ponzoni, l'ex assessore è stato arrestato di recente, era addirittura ricercato perché c'era pericolo di fuga, un assessore regionale in Lombardia con pericolo di fuga, come dire, infischiato con alcuni clan in Brianza, ebbene nell'ambito di quell'inchiesta in Lombardia, dunque dopo l'arresto di questo ex assessore Massimo Ponzoni anche per i soldi ricevuti da Filippo Duzioni, che è un imprenditore di Ciserano vicino Bergamo, non è Duzioni, Duzioni con la U, ma aveva queste Duzioni, anche lui aveva questa abitudine di dare tangenti perché voleva ottenere i permessi velocemente per costruire centri commerciali, non uno, 6 o 7, Trucazzano, Melso, ce n'è una sfilza di centri commerciali alcuni dei quali attorno a questo Brebemi, e insomma è emerso che quest'ultimo ha in qualche modo fornito mezzo milione di Euro ancora a Franco Nicoli Cristiani, questo Duzioni, tra il 2009 e il 2010, cose di partiti, 168 mila Euro in fatture emesse da una società di Nicoli o Nicoli Cristiani interrogato da PM Robledo per l'acquisto di attrezzature per l'adegenza offerte in donazione alla riabilitazione all'ospedale di Brescia, poi 8 mila Euro di spese per cocktail e di premiazione, 214 mila Euro in parte riferibili a contributi elettorali al coordinamento provinciale del PDL di Brescia, 15 mila Euro al mandatario elettorale del candidato Marcello Raimondi, attuale assessore regionale all'ambiente, che è questo signore, peraltro anche lui finito nelle intercettazioni non indagato, ma a quanto pare al telefono ha detto di non aver mai trovato in tanta esperienza di politico tanta ostruzione da parte dei funzionari per poter accelerare le pratiche per la discarica, perché quindi anche a lui i sodai di Locatelli si erano rivolti per cercare di far pressione, cercare di ottenere queste autorizzazioni. Raimondi non risulta aver preso tangenti, però risulta essersi interessato, essersi meravigliato anche di aver trovato questa ostruzione. Comunque, Bergamasco, non è siciliano, 10 mila Euro al PDL per partecipazione e cena di gala per Formigoni, 10 mila al comitato elettorale di Guido Podestà, come sapete è stato coordinatore a Milano al PDL e nonché presidente della provincia di Milano. La Guardia di Finanza segnala infine 100 mila Euro nel 2008 in 20 assegni circolari da 5 mila Euro, l'uno con la causale acquisto immobili che non troverebbe corrispondenza nella società formalmente interposta per giustificare l'uscita di incenti somme incontanti e qui siamo ancora a Nicoli Cristiani. Capite che quindi da un lato Ponzoni, dall'altro Nicoli Cristiani, in centro Locatelli, Duzioni che è sempre Bergamasco per i centri commerciali, Locatelli per la merda sotto le cave estrative e magari sotto la Brebem, visto che nell'intercettazione si sente chiaramente che i colleghi di Locatelli parlo espressamente di roba bianca, roba che insomma non è trattata da buttare lì e che c'è chi non la vuole più sotto là, cioè sotto la Brebemi, sotto la massicciata, quindi qualcosa c'è sotto. Tant'è che anche un comune come quello di Treviglio, dove sto io, ha risposto a un'interrogazione della Lega Ambiente Lombardia dicendo sì effettivamente dobbiamo prendere atto che temiamo che ci sia della robaccia qui attorno alle nostre città, ai nostri paesi e quindi non ha potuto smentire Lega Ambiente, il comune, quindi l'istituzione, peraltro a Treviglio comanda il PDL perché il sindaco del PDL è esattamente come quello della giunta di Formigoni, però non ha potuto negare questa evidenza. Tutto questo si configura in un momento in cui ovviamente si parla molto di Notav, si parla ovviamente perché il Notav fa parlare anche per il caos, per la mobilitazione forte che questi giovani hanno e riescono a fare sia in Valsusa, agli scontri con la polizia, sia in varie parti d'Italia, ma ahimè anche in Lombardia. Abbiamo le nostre pecche con questa struttura, questa realtà, la Brebemi e quindi le cave estrattive che sono finite al centro di un'inchiesta scandalosa che ha già portato in galera illustri esponenti politici molto vicini a Berlusconi nel partito, per non dire perché Nicoli Cristiani ha fondato nel 1994 Forza Italia, è stato già assessore in regione Lombardia all'Ambiente, era già stato condannato in appello per un'inchiesta legata al traffico di rifiuti, poi assolto in Cassazione, prescritto in appello e assolto in Cassazione e poi è stato anche assessore al commercio, quindi una vecchia volpe, un vecchio cinghialone per non dire un vecchio leone morbidone della politica non solo lombarda, che purtroppo si scopre essere una politica marcia con una regione Lombardia comandata, come vedete, da una cricca che di fatto è gravemente compromessa con un presidente come Roberto Formigoni, che non pensa assolutamente di dimettersi, anzi dice spavaldamente che lui non sapeva la responsabilità è personale e dunque utilizza lo stesso metodo del Vaticano, sono indignato, sono preoccupato e noi invece qua forse probabilmente siamo davvero arrivati a un punto che abbiamo un tale inquinamento, non solo di politici corrotti, ma un inquinamento tra cromo esavalente e adesso anche rifiuti speciali messi sotto fuori casa, al punto che non sappiamo davvero a chi metterci in mano, se non nelle mani purtroppo della magistratura, che si spera potrà far chiarezza e punire severamente corrotti e corruttori affinché si possa ristabilire un po' di giustizia, anche se ci credo poco, però insomma la brebemi è forse peggio della TAV.